Sono proprio curiosa di sapere com'è Raga, sadidas Wow Raga, sono buonissimi Buongiorno ragazzi Bentornati sul mio canale Stamattina mi sono svegliata e ho deciso di Concretizzare questa idea che mi frullava Per la testa un po' di tempo Ovvero di provare ad essere Vegana per tre giorni Voglio proprio vedere che effetti ha Sul mio fisico, come mi trovo Provare gusti nuovi Io ve lo dico non ho mai Assaggiato seitan Tofu e cose del genere E dovrò quindi anche Dire addio per un po' al mio gelato Vabbè tre giorni raga si può fare dai Se no prendo il gelato vegan E niente quindi vi porterò con me Durante questi tre giorni E iniziamo subito dalla colazione E poi andrò a fare la spesa perché mi sa che non ho Niente che vada bene Iniziamo subito In realtà stamattina prima della colazione Mi sono praticamente buttata giù dal letto Mi sono fatta una tazza di caffè Ho tolto il mio pigiama anche se in realtà era comodissimo Infatti mi è dispiaciuto un pochettino E mi sono visita la palestra per andare a fare una corsetta È una nuova routine che sto sperimentando E devo dire che mi sto trovando benissimo Tornata dalla corsa Raga vi giuro sono rigenerata Cioè mi avete visto con che faccia Mi sono svegliata stamattina Però sono piena di good vibes Cioè a me la corsa raga mi rilassa un sacco Ma adesso aggiungiamo alle cose importanti Ovvero la colazione Farò una bowl di frutta e yogurt vegetale Ma bellissima Guardate il risultato finale Ecco andiamo a vedere subito come si fa Ho preso i miei frutti di bosco surgelati Li uniti a mezza banana Del latte di mandorla Successivamente ho frllato tutto Fin quando non ho avuto una consistenza simile a quella di un sorbetto Ho messo prima di tutto nel piatto Lo yogurt di soia E poi ho unito il mio composto di frutti di bosco e banana Come topping ho aggiunto altra frutta E poi la mia granola homemade Raga ne vado troppo fiera È facilissima da fare L'ho fatta addirittura la sera prima E ci ho messo davvero 5 minuti Ne è bastato prendere delle arachidi Spezzettarle un pochettino E poi aggiungerli ai fiocchi d'avena Con un pochettino di olio di semi Miele e uvetta Ho mescolato il tutto E poi li ho riposti sopra a una teglia Con della carta forno E ho infornato tutto a 180 gradi Per una decina di minuti Successivamente l'ho tolto L'ho fatto raffreddare Ed ecco il risultato finale Una granola croccantissima Ora finiamo di comporre la nostra colazione Infatti ci aggiungo l'immancabile burro di arachidi crunchy di MyProtein È finita Ora non ci resta che assaggiarla Devo proprio rivalutare la dieta vegana Io ve lo dico Ero ancora un pochettino legata ai preconcetti Nel senso che Già quando avevo pensato di fare Questo video è detto Oddio adesso devo mandare tanto fagioli E invece no Cioè questa è una roba vegana Siamo in macchina Perché stiamo andando a fare la spesa Lui vabbè mio papà L'avete già visto in qualche video Di un bel po' di tempo fa È da un po' di tempo che non vieni sul canale Eh no no mi hai escluso No No dai Allora dobbiamo fare un workout La prossima volta Perfetto E niente Tanto lui deve andare a fare la spesa Quindi colgo l'occasione Per andare in un supermercato Un pochettino più grande Perché quello sotto casa mia Non ha praticamente Niente di vegano Mi ci metterò anche in cucina Ho già visto stamattina Delle ricettine deliziose E vediamo se queste cose poi sono davvero buone Tu hai mai mangiato il seitan Il tempeh Che cos'è quella faccia? Forse so come si scrivono Ma non sono sicura Guarda Cosa stai cercando? Cosa vuoi comprare? Sto cercando del prossimo Bravo Non so se anche a voi Ma a me mi rilassa tantissimo Andare a fare la spesa Cioè io Se fosse per me Ci starei dentro Qualcosa come tre ore Anche questa corsa matutina Devo dire che Mi ha fatto affrontare La giornata meglio Forse sarà perché È una delle prime volte Che la faccio E c'è sempre un pochettino L'emozione Della cosa nuova Quindi per cavalcare Anche questa onda di motivazione Incomincerà con il mio Primo pasto Vegano Vero e proprio Infatti oggi Andremo a cucinare Il tempeh Ci ho messo un pochettino Al supermercato A trovare queste cose qua Perché erano i scaffali Che proprio non avevo Neanche mai considerato E devo dire Che hanno dei pezzini Anche abbastanza alti Sapevo costessero un po' Però non così tanto Sinceramente Per 100 grammi Ha quasi 7 grammi di grassi Quasi 8 di carboidrati E 18 di proteine E quindi sono molto curiosa Di seguire questa ricettina Che vi farò anche vedere E assaggiarlo Prima di tutto Ho tagliato il tempeh In listarelle Poi me lo sono guardato un attimo Hanno usato Non so perché raga Io ho usato tutte le cose nuove E aveva un aspetto Un pochettino strano Infatti c'erano questi Pezzettini bianchi Che non mi convincevano tantissimo Pensavo fosse muffa Li ho messi in pentola Con un pochettino di olio E poi ho creato Questa salsina strepitosa Con salsa di soia Miele Limone E burro di arachidi Che poi ho unito Il tempeh in pentola Ed ecco qua Il mio piattino finito Insieme alle mie Immancabili melanzane E le mie gallette Sono proprio curiosa Di sapere com'è Raga vi giuro Il burro di arachidi così Non l'avevo mai pensato Proviamo eh Ma raga Ma è buonissimo Saghe da mame Praticamente E subito dopo pranzo Al posto di prendere Il caffè a casa Sono andata da Starbucks E ho preso il mio caffè freddo Con latte vegetale E insieme a Tullio Abbiamo studiato un sacco Raga dovevo assolutamente Capire qualcosa di informatica E lui è un genio Mi ha spiegato tutto Finalmente ora di cena Raga vi giuro Non ce la facevo più Oltretutto Questa preparazione È durata un sacco Io non cucino Praticamente mai Cose un pochettino più Elaborate Quindi quando è Mi studio la ricetta Cerco di stare attenta Alle dosi Controllo lì il forno Ma finalmente È arrivata l'ora Di mangiare I nostri burger vegetali Oggi andremo a mangiare Quelli con i ceci E le patate E ce li ho qua sotto Guardate che piattino Ho due burger Un broccolo Le patate La mia zucca E poi suggero dopo Un pochettino di olio Era davvero un sacco Che non mangiavo così healthy Allora Assaggiamo Raga sono buonissimi Allora Sanno principalmente di patata Forse ho messo troppe patate Sa di healthy Però buono Dato che sono venuti così buoni Devo per forza condividere con voi la ricetta Che raga vi giuro che è facilissima Infatti ho preso 120 grammi di ceci 100 di patate Ho aggiunto un po' di zucchina cruda Poi delle spezie Sale Paprica Insomma Quelle che mi piacciono di più E ho frullato tutto Non deve diventare Una vera e propria pontiglia Però deve rimanere comunque Un pochettino granuloso Il composto E vado ad aggiungere Un bel po' di pangrattato Io ne ho messo due cucchiai Però nel caso Mettetene un pochettino di più Perché se è troppo umido Non si cuoce E fate il vostro burgerino Il mio diciamo Che è diventato gigante Secondo me potete farlo Anche un pochettino più schiacciato In modo tale Che si cuocia meglio E poi niente in forno Fin quando non lo vedete dorato Quindi a 180 gradi Per un quarto d'ora Ricordatevi Importantissimo Di girare la metà cottura E gli altri che vedete Poi li mangeremo più avanti E dopo ve li farò vedere Questi qua rosa Sono bellissimi Ma prima di andare a letto Raga dalla faccia Non lo so Sono proprio distrutta oggi Mi prendo anche un pochettino Di proteine in polvere Io non sono una grandissima utilizzatrice Perché di solito Già con la dieta Normale Riesco ad assumere Il mio quantitativo Però oggi a cena Sono stata un pochettino Più bassa del solito Anche perché i burger Sì erano vegani Proteici Ma non tantissimo E quindi mi sono fatta 20 grammi di proteine vegane Di My Protein Che vi lascio qua sotto E questo qua È il mio gusto preferito Sì sapete che io Senza il dolcino Non vado neanche a letto Quindi proprio Cadrò a pennello Buonanotte Domani Una mattina iniziata Con i pancake Non può che iniziare Al meglio Mamma mia Io mi sto davvero superando Credo di non aver mai cucinato Così bene Come in questi giorni Tutta la mia vita Ve lo giuro A questo punto Non ci resta che Assaggiarlo E ho messo tra tutti i piani Dei pancake Dei bottoni di cacao Anche questi qua Sono vegan Che adesso si dovrebbero Essere sciolti E raga Aspettate Prima a vedere Wow Eccolo il cacao Raga che buoni Ogni volta che li mangio Dico voglio vivere Di pancake Ogni mattina Me li faccio Qui sono troppo pigra Non ho messo 60 grammi di farina Io ho preso quella Zero In teoria Il lievito Ma io me lo sono dimenticata E mescolate Fin quando non avete Un composto Un pochettino elastico Ovvero non troppo liquido E non troppo solido Ungete una padella Intederente Di olio di cocco E versate il vostro composto Per fare dei piccoli pancake Ricordate di girarli A metà cottura E guardate i vostri pancake Con i topping Che preferite Ed eccoli qua Guardate che belli Eccomi qua Super restaurata Mi sono anche allenata Verso l'ora di pranzo Oggi è il turno Del tofu Anche questo qua Ragazzi sinceramente Non l'ho mai mangiato Oltretutto Questo video Cade a pennello Perché novembre Raga non lo sapevo L'ho scoperto praticamente Qualche giorno fa È il vegan world month Quindi ecco Perfetto Mi sento proprio Il momento giusto Allora facciamo che Lo apriamo insieme Ed è Questo Sembra un formaggino Dai A parte che è proprio Una monoporzione Cioè li vendono da Sono le porzioni da single Proprio questi Per 100 grammi Ha 14 grammi Di proteine Carboidrati praticamente Zero E un pochettino Di grassi Raga Sadidas Boh Andiamo a cucinarlo Siamo giunti Al momento Della verità Questo è il mio Piattino Oltretutto Come fonte carbo Ho il pacchettino Di crackers E le mie gallette Raga sono super Di fretta Vi giuro oggi Quindi avevo voglia Di pasta in realtà Ma non lo faccio Intanto farla Vediamo se Così sono meglio Li ho soltanto Fatti in padella Con un pochettino Di salsa di soia Quindi super semplice Sincera Non sanno assolutamente Di niente Hanno un po' La consistenza Di una cicca No raga Questo qua Proprio non mi è piaciuto Vabbè Mangiare lo mangio Perché Io buttare il cibo Assolutamente no La mia zucchetta Invece Non è sempre Perfetta Eccoci qua Al momento Della nostra cena Vi ricordate che ieri Ho fatto anche Gli altri burger Quelli fucsia rosini Bellissimi Ecco È giunto il momento Di mangiarmi Questi burger Sono fatti esattamente Come gli altri Soltanto che Al posto dei ceci Ho utilizzato i fagioli E al posto della patata Ho messo la barbabietola In modo tale Che adesso Hanno questo colore Bellissimo Ecco qua Il mio piattino Ragazzi Vi giuro È mega voluminoso Ma proprio mega Oggi vado un pochettino Più tranquilla Con le fibre Infatti toglierò Anche la buccia Delle patate Perché ieri Ho davvero esagerato Il mio corpo Non è abituato Infatti mi sono sentita Gonfia per tutto il giorno In realtà Mi sentivo quasi incinta Vi giuro C'avevo una pancia Boh gigante E questa cosa Mi ha dato anche Un po' fastidio Sinceramente Quindi ho deciso Di cercare di evitare Questa volta Infatti i burger Alla fine Siano tante fibre Però è tutto Un pochettino spezzettato L'insalata Invece la digerisco Molto bene E le patate Togliendo la buccia Siamo a posto Aggiungerò sempre Un pochettino di olio E poi andrò a mangiarle Allora nel frattempo Che registravo Raga questo è un problema Di molti di noi Si sono un po' Affreddati Questi burgerini Quindi raga Lo prendo con le mani Sinceramente Ed ecco qua Dato che li ho fatti ieri Un pochettino Ho perso Il colore Però appena fatto Cioè avete visto Che era fucsia Oltretutto Pensavo di mangiare In realtà domani Perciò li avevo messi In freezer Sappiate che i congelati Resistono un bel po' E poi niente L'ho scongelato Per mangiarlo oggi A questo point Lo assaggiamo Questa volta vi dico Con me Dopo che ho finito Di masticare Perché mi rendo conto Che ogni volta Che vi dico Cosa ne penso Non sto ancora In realtà mangiando Fa un po' schifo Diciamocelo Comunque buonissimo Vi giuro Poi a me I fagioli Piacciono un sacco Sinceramente La barbabietola È un alimento Che non si mangia Spesso Però visto che ha Pochissime calorie Ed è un pochettino Dolce Boh non lo so Mi piace un sacco Anche quella Poi la mangiavo Sempre in Spagna Perché costava poco Quindi vivevo di quella Mi ricordo E niente Super approvati Sapete che mi piacciono Più questi Rispetto a quelli di ieri Sapete che io Senza mangiare Qualcosa di dolce Non riesco ad andare a letto Ho cercato Per tutta la cucina Qualcosa Raga Vi giuro Che potessi mangiare Ma ho ben poco L'unica cosa disponibile È la mia granola Che almeno Sono sicura Di quello che c'è dentro Con un pochettino Di latte vegetale Raga Non pensavo Fosse così difficile Perché Ho qualcosa Ma contengono Sempre tracce E non hanno Il marchettino Che sia vegano No Quindi Avevo voglia Di un biscottino Così ma Non ho trovato niente Quindi questo Le soddisfazioni Mi sento un po' Un cricettino Tipo un taro Che si mangiano Le granaglie Beh raga A questo punto Posso augurarvi La buonanotte Anche per oggi Buonanotte E buongiorno Eccoci qua Per iniziare Una nuova giornata Oggi in realtà Mi sono svegliata Ho bevuto il caffè E poi ho scoperto Che in realtà È molto meglio Aspettare un attimo Prima di andare a correre E non buttarsi Dal letto Ed essere già Con le scarpe Da ginnastica Infatti Ho deciso di lavorare Un pochettino Al computer Editare i video E poi Ho fatto la mia bella corsetta Eccomi qua Di ritorno Dalla mia corsetta Mi sono già messa La mia vestaglina Da appena svegliata Che in realtà Perché mi sono Un attimo Lavata C'era un freddo In casa mia Oggi È il turno Del porridge Era da un sacco Che non lo mangiavo E l'ultima volta Che l'avevo mangiato L'avevo fatto proprio Che mi era piaciuto Quello di oggi Invece È molto carino E secondo me È anche molto buono Oltretutto Ci ho messo anche Dei bottoni di cacao Che adesso Si sono sciolti E quindi rimane Anche molto più cioccolatoso Ah raga Ho aggiunto anche Delle proteine in polvere Perché sennò Come pasto Diciamo che Era poco proteico Sempre quelle vegane Questa volta È venuto proprio bene Anche perché L'altra volta Ho buttato soltanto La farina di avena Sembrava una pontiglia Qua invece ho fatto Un mix Farina di avena E fiocchi E poi Boh non lo so Forse L'ho fatto tanto carino Non lo so Mi piace un sacco Ho fatto tutta la composizione Questo porridge Quindi Approvato Ed eccoci qua Di nuovo insieme Per un altro pranzo Diciamo che questa giornata Non è stata super emozionante Perché ho passato la mattinata A studiare E a scrivere i video Che usciranno Poi Prossimamente Oltretutto È una giornata grigia Boh un po' così Sinceramente Sapete quando Non avete Molta voglia di fare cose Ecco Proprio questa giornata E perciò Anche la mia voglia di cucinare È praticamente Pari a zero Quindi Andrò a mangiare Della pasta già pronta Di Food to Train Raga Non vi posso Spolerare niente Anche il packaging Che è bellissimo E vorrei tanto farvelo vedere Ma ogni cosa Ha il suo tempo Quindi aspettate insieme a me Questa è vegana E niente In realtà Va boccata la confezione Messa in microonde Io purtroppo Non ho il microonde Quindi la scalderò in pentola Quindi la scalderò in pentola E in due minuti Ho il pranzo pronto Raga Un sogno Già pronto Il mio piatto fumante Di pasta Sapete che era già da qualche giorno Che volevo mangiarla Ma boh Raga Mi pesa Mi pesa far la pasta Ci mette troppo a cuocere ogni volta Quindi Meno male che oggi Era già pronta Perché ne sentivo davvero Il bisogno Passaggiamola Vedete che ci sono anche Dei cubettini E sono Di soia Raga Buonissima A parte che Questi davvero Sanno di carne Sanno tipo di prosciutto Mi si sta aprendo un mondo Aggiungerò però Un pochettino di verdura A questo mio piattone Un po' di insalata E pomodorini Sarei tentata Di metterci un pochettino Su di parmigiano Sinceramente Però no Comunque Non so chi mi ha preso oggi Ma ho una fame Devastante E quindi Diciamo che non sono Praticissima Con i dolci Bag Se non Quelli che riguardano la colazione Quindi Opterò per Gallette Burro di arachidi E la mia Granola Fatta in casa Raga Secondo me È un mix perfetto C'è un profumo Che c'è la granola Tostata Insieme al burro di arachidi Insieme alla galletta Questo Era il dolce Che ci voleva Sa dieta vegana Mi sta anche spingendo A provare nuove cose Sono stra felice Vi giuro Come ogni Martedì sera C'è la mia diretta Alle 18 E 30 Su Instagram E qua È tutto pronto Oddio Se mi avvicino troppo C'è una luce devastante Vi faccio vedere Dietro le quinte Qua c'è la luciona Perché se no Raga Non si vede niente Il mio tappetino Dato che È un allenamento Hit E niente Qua ci metterò Niente Qua ci metterò Il telefono E Iniziamo Ogni martedì A 18 30 C'è Segnatevelo Diretta Terminata Raga È andata benissimo Io mi diverto troppo Mi sono anche Un secondo Ripresa Purtroppo Instagram Non me l'ha salvata Però vabbè Tanto ogni martedì Ne faccio una E niente Adesso mi vado a disinfettare E poi ci vediamo Per la nostra cenetta vegan Oddio raga Era una bella docciona Era proprio quello Che ci voleva Perché avete visto In che condizioni sono Ogni volta che faccio Nenamenti Hit Mi concio così C'è assurdo Un bagno di sudore Praticamente Vediamo quindi Oggi Che cosa propone Il nostro menù Oh Il Seistan Anche questo qua Non l'ho mai assaggiato Quindi vediamo subito Com'è Questo in realtà È quello che più Sembra che sta vicino Alla carne Cioè Alla fine Sembra tipo Pezzi di prosciutto Molto proteico Questo Credo che A livello di valori nutrizionali Il seitan Sia il migliore Perché ha pochi grassi Pochi carboidrati E un sacco di proteine Diciamo che è più quello Che si avvicina al pollo Bravo seitan Bravo seitan Non ha un bellissimo aspetto Devo dire Cioè Alla fine Sembra tipo Degli hamburger strani Proviamo Ad appoglierli E proviamo ad annusarli Come al solito Ma perché non sanno di niente? Raga Cioè vi giuro Non ha odore No Sì 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 Sa un pochettino di soia Ho intenzione di cucinarlo Con salsa di soia Raga Io credo di non aver mangiato Così tanta salsa di soia In vita mia Ma vedo che tutte le ricette Le fanno così Quindi io raga Sapete che non sono un'esperta Seguo Eccolo qua Allora Devo dire che non ti presenta Malissimo Sembrano in realtà Tipo Dele listarelle di patatine Se l'ho fatto così Tanto me l'ho presa bene Con questa forma Allora Prendiamo un pezzettino Allora Non è saporitissimo A questo punto Mi sa che potevo metterci Più salsa di soia Però è buono Anche la consistenza Mi piace Secondo me Se lo facevo Quaccere un pochettino di più Oddio Se lo facevo Quaccere un pochettino di più Rimaneva anche un pochettino Più croccante Quindi Approvato Ok ragazzi Anche questo video Finisce qui Questo è stato Il nostro ultimo Pasto insieme Vegan Allora Devo dire Che Mi aspettavo Che tre giorni Fossero un pochettino Più facili Sinceramente Ho sentito un pochettino La mancanza Del mio yogurt normale Della carne Del mio parmigiano Però Devo dire che Fisicamente Mi sento bene A parte Il primo giorno Che proprio Non ero abituata Quindi Mi sentivo un pochettino Gonfia Ma probabilmente Era dovuto al fatto Che mi ero mangiata Tipo un chino di melanzane Quindi Non credo fosse colpa Del tempeh Come avete visto Alcuni cibi Mi sono piaciuti Altri un pochettino meno Tipo Il tofu Raga Il tofu Credo che non lo mangerò più Mentre invece altri Mi hanno lasciato stupita Sapete che non sono Una grandissima Cuoca Ma questo Mi ha portato anche A sperimentare Trovare un pochettino Di ricettine nuove Perché I banana pancake Erano strepitosi I burger Soprattutto quelli Alla barbabietola Ancora di più Quindi Boh raga Sono felice E soddisfatta anche Delle mie doti culinarie Ecco Lo scopo di questo video Non era assolutamente Convincere qualcuno A diventare vegano Oppure Dire che la dieta vegana Non va bene Era soltanto Una prova Il messaggio Il messaggio che voglio Lasciarvi È di rimanere un pochettino Slegati Dei propri preconcetti E buttarsi sempre Nel provare cose nuove A qualsiasi livello Che può essere Un nuovo modo di allenarsi Un nuovo modo di mangiare Per quanto riguarda Il mondo del fitness Ma questo può essere steso Anche a tutta la sfera personale Lavorativa E cose varie Perché come vedete I cambiamenti portano spesso A qualcosa di buono E a scoprire cose nuove A questo punto ragazzi Questo video Finisce davvero qui Come al solito Se non ci è piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Perché ho visto Che la maggior parte di voi Che guarda i video Non è iscritto E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao